Significa alla lettera giardinaggio con gli uccelli. Il bird gardening è un'attività che gli appassionati di avifauna sapranno apprezzare certamente. La stazione ornitologica abruzzese, in collaborazione con l'Oasi WWF e Calanchi di Atri, ha pensato proprio a loro, ideando un corso gratuito di bird gardening destinato ai giovani tra i 15 e i 35 anni. Mira di insegnare ai partecipanti a riconoscere le varie specie di uccelli presenti all'interno dell'area protetta, ma anche ad apprendere le tecniche di realizzazione di cassette nido, mangiatoie, bat box e bat board. Questi strumenti si rivelano molto utili al sostenimento dei volatili durante il periodo invernale e durante quello riproduttivo. Il corso prevede 11 incontri teorici, pratici e sul campo, con una cadenza di due incontri la settimana, la data d'inizio delle lezioni è il 19 novembre alle ore 15 presso il centro visite dell'Oasi WWF Calanchi di Atri. Il numero massimo di partecipanti è di 20 e di 20 persone. Per iscriversi basta inviare una mail a infochiocciola riservacalanchidiatri.it. Per ciascun partecipante è previsto il rilascio di un attestato per il riconoscimento di eventuali crediti scolastici.